No, 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 guarda, Orfeo Mario, sta chiamando lui, dai, dai, vai, Carabinieri Dugliani, buongiorno, Carabinieri Dugliani, buongiorno, documenti? Signori e signori, Mauro Orfeo! Buonasera a tutti, bentrovati, come va Fiore? Ma aspetta, aspetta Mario, scusami, scusate, ma tu mi hai chiamato per caso? Sì, per caso, ti volevo dire che cosa stavo facendo, tu che fai? Allora, sicuramente qualcuno qua, qualche infamone, ti ha chiamato e ti ha detto... No, perché? Ti ha chiamato e ti ha detto, guarda che il Pionero sta parlando di te, sta dicendo che sei Juventino... Ma non è vero, io come tutti i giorni a quest'ora, tutti i giorni a quest'ora, prima dell'ora del Rosario, ti chiamo, lo possiamo dire a quelli che ci ascoltano, no? Chiedigli la formazione della Juve, se la già fai. Senti, vogliono sapere la formazione della Juve di stasera, se Orsato gioca. Adesso sto facendo la formazione della Juve e poi sto preparando la valigia, perché tu sai che tra poco, come dire... Hai visto che sta tutto? Ci ho preso i scatoloni, ci ho! Davvero? Eh sì, un po' di libri, un po' di carte, un po' di... E chi prenderà il tuo posto? Chi sarà? Eh, chi lo sa, chi lo sa. Come si chiama? De Falco, De Falco! Quello della... Quello della Costa Crociera, no? Ci parla di De Falco! Eh sì, sì! De De Falco, sai cosa... Dimmi, dimmi Mario, dimmi! No, dico, che cosa mi dice De Falco quando viene al posto mio? Così ho sentito l'etto da qualche parte. Sì, ma dico, che cosa mi potrà dire quando prenderà il posto mio? Come mi dirà? Eh, ma lo so, come ti dirà? Scendi? Scendi? Eh, sì? Come mi dirà? Scendi? C'è niente da fare, è un uomo di spettacolo, ragazzi! Lui deve fare lo show! Tu ce l'hai già un posto, caso mai, anzi, sicuramente, quando andrai via, sicuro che andrai via... Sicuro! Eh? Tu vieni a lavorare con me! Va bene, grazie! Eh, signore, ci vediamo domani mattina alle 10, non mancare, eh! Dove? Eh, domani mattina, togliate! Quando parlo io ci devi essere, eh! A che ora parli? Alle 10, puntuale, staccate! Ci sarò, e tutti loro ci saranno, mi raccomando, Mario, eh! Aspetta, augurizzi mi! Aspetta, auguri per questa sera, auguri! Se non puoi, se non puoi chiamare! Auguri, Mario, auguri! Auguri per questa sera, Mario! Auguri cari, Mario! Augurissimi! Saluti a tutti, arrivederci! Ha chiuso, auguri, Mario, auguri! Pensa come sta singhendo adesso! Ha chiuso! Scusate, ha chiamato lui! Chi è? Io non so chi è! Non so chi è che l'ha avvisato, è qua! L'infamone, lo sai! Ciao, so chi è! Ciao, so chi è!